Oggi abbiamo incontrato la prefetta Scialla, è stata molto interessata al documento che abbiamo consegnato, è un documento che si articola in punti in cui chiediamo maggiore attenzione sui luoghi di lavoro, maggior controllo da parte delle istituzioni, degli investimenti statali corrispondenti alle necessità degli organici, degli organismi che devono controllare perché sono ridotti all'osso. Il mancato controllo e la mancata attuazione delle norme si concretizza poi in un numero elevatissimo di incidenti mortali e gravi. È indispensabile quindi che lo Stato intervenga anche in virtù del piano di resilienza, possa investire fortemente sugli organici, sul lavoro e sulla formazione, informazione e preparazione dei lavoratori, soprattutto con riguardo alle categorie più a rischio e dei lavori più importanti e pesanti.